Avranno ragione, tutto va bene, noi siamo dei pazzi scatenati perché la situazione di chi abita nel rione di Servola e dei dintorni è completamente diversa. A due sono le cose, o loro hanno ragione e quindi gli elementi inquinanti hanno dei nomi diversi da quelli che vengono dichiarati o ci prendono per i fondelli. Ed è ora di finirla, di prendere in giro i cittadini e i loro rappresentanti. Il problema della ferriera è un problema gravissimo, la risposta dei cittadini a partitica è stata forte, credo che Siderurgica Triestina poteva evitare questo comunicato pessimo, di pessimo gusto e francamente assolutamente inadeguato visto il momento. Se volevano avere un incontro, se volevano avere un confronto con la città bisogna perlomeno essere onesti e cercare di rapportarsi con chi vive la tragedia della ferriera ogni giorno e non con questo comunicato che io posso capire che a carnevale ogni scherzo vale, ma scherzare sulla salute è una cosa indecente.